Benvenuti alla nostra tavola rotonda, l'opposizione al governo Draghi a partire dall'insorgenza e dalla convergenza dei movimenti. Sembra quasi una domanda da un milione a un milione di dollari, a me piacerebbe di più un milione di lavoratrici e di lavoratori in piazza contro il governo in una mobilitazione prolungata e possibilmente decisiva. Piccolo riassunto delle puntate precedenti, da quando il liberalismo ha accelerato i processi disgregatori tipici di un modo di produzione che si fonda sullo spuntamento dell'uomo e della natura, ci ha messo tutti quanti di fronte al problema della ricerca di parole d'ordine unificanti, anche di forme adeguate del nostro stare insieme, per ricomporre quello che il capitale locura, l'acera, civile. Per un lungo periodo di tempo noi abbiamo chiamato questa tensione, abbiamo chiamato Aspilito di Genova. Soltanto un paio di decenni fa sembrava che si fosse in qualche maniera composto un nuovo modo di stare insieme attraverso le pratiche e i modi dei social forum. Un'esperienza che è stata fondativa e costituente per tutti noi, non solo personalmente, ma proprio per la cultura politica che ha permeato questa e altre organizzazioni. Perché quella stagione è stata particolarmente felice per la sua capacità di ereditare il meglio che era accaduto prima di lei e per la capacità anche di proiettare nel futuro una speranza di liberazione per tutte e per tutti. Quella stagione sicuramente non è finita bene, non è lo spazio per un bilancio di quella cosa, però è importante sottolineare che lo scorso anno, proprio mentre molti di noi partecipavano al percorso del ventennale, che era un percorso che non era soltanto, anzi per la maggior parte non era assolutamente un percorso di memoria, non era un percorso tra le tredici, proprio in quelle ore dalla GKN ci arrivava un segnale decisivo, perché non soltanto intercettava il nostro desiderio di convergenza, ma lo arricchiva, lo arricchiva con una scala d'ordine importante, che proprio grazie all'esperienza che avevamo maturato dentro quella stagione di conflitto che chiamiamo dei social forum, siamo stati abbastanza pronti a intercettare e a contribuire ad esplorare in qualche modo. Dentro e fuori anche dall'esperienza di cose come la società della cura, noi avevamo iniziato a discutere di convergenza dei movimenti anche durante i mesi più incerti, più oscuri del lockdown. Quindi quando a un certo punto la GKN ha fatto irruzione sulla scena pubblica, noi ci siamo trovati di fronte a delle nuove opportunità. per questo iniziamo questa tavola rotonda con l'interproduzione decisiva in qualche modo con Dario Salvetti e con il collettivo di fabbrica GKN, perché sono importanti gli elementi di bilancio e di rilancio in una fase in cui non soltanto la vertenza, ce l'ho spiegato questa mattina, la vertenza nella fabbrica è il momento dedicato, ci ha spiegato che è il momento in cui tutte le vertenze si trovano in un momento vero, ma è un momento importante anche per quello che riguarda la proposta complessiva dell'insorgiamo che il collettivo GKN ha messo a disposizione di tutti di Dario Salvetti. Grazie. 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 Grazie ancora a tutti e a tutti. a volte è più facile agire che trovare le definizioni al proprio agire, quindi parlare poi di cosa sia la convergenza e provare a definirla non è esattamente semplice. io direi innanzitutto che per quanto mi riguarda la convergenza, se vogliamo e se riusciamo a praticarla, può essere la forma particolare con cui il movimento di classe sociale, politico, radicale in questo Paese esce da riflusso che ormai ha una natura vicennale. non so quando vogliamo datare l'inizio del riflusso italiano, se lo vogliamo datare dal 2007, dal 2006, dal 2008, non dico che non sia successo nulla in questi anni, che non ci siano state mobilizzazioni sicuramente significative, ma di fatto c'è un prima 2008, c'è un post 2008. qualsiasi siano gli schemi che sono stati provati in questi dieci anni e ognuno ha avuto in questi dieci anni i propri percorsi politici, sindacali, programmatici, c'è chi ha proposto coalizioni, c'è chi non le ha proposte, c'è chi ha provato crescite autocentrate. La verità è che qualsiasi sia il percorso che uno di noi ha avuto in mente, la verità è che dobbiamo prendere atto che nessuno di questi percorsi sia dato, nessuno di questi percorsi oggi ha un grado di massa critica non è per il quale di autorevolezza politica tale da imporsi, non imporsi nel senso autoritario, ma imporsi nel senso che emerge sopra gli altri e questo ci costringe volenti, conolenti, a mettere da parte questi schemi e a ragionare seriamente invece di come praticare quella che abbiamo chiamato la convergenza. Convergenza non vuol dire approfio, non vuol dire nemmeno coincidenza. coincidenza è quando ti dai tutti appuntamento alla stessa ora nella stessa piazza e comunque la coincidenza è qualcosa che non riusciamo a dare nemmeno perché il tema sull'autunno è che c'è una difficoltà e ci sarà una difficoltà a darci quantomeno una data su cui tutti praticare una massa critica, questo già lo possiamo dire. Vedo questo la convergenza è qualcosa di più. Convergenza è prendere atto che per quello che è lo stato, lo sconto di classe e l'urgenza del cambiamento, del fatto che non abbiamo più tempo, la pandemia e la guerra hanno accederato da questo punto di vista i processi e ci hanno anche tolto tempo per poter ragionare sulla nostra progettualità e quindi siamo costretti a dare anche delle risposte in breve tempo, la convergenza è prendere atto che qua non c'è più uno spazio da contendere, che questo continuo tentativo di autocontenderci uno spazio che si va restringendo è dannoso qualsiasi siano le nostre opinioni politiche in partenza perché non ci permette di avere nemmeno uno sviluppo di dibattito politico nobile dove tu puoi avere in testa la tesi politico-sociale migliore del mondo ma questa semplicemente rimane sulla carta e in quanto tale non può avere nemmeno uno sviluppo di profondità e nemmeno essere messa la prova con altre idee. Quindi la convergenza non è semplicemente come dire sommiamo le nostre forze, è per grato che io ho bisogno di te, ho bisogno di tu cresca e mi auguro che tu cresca anche se la tua tesi iniziale può essere diversa dalla mia. Faccio alcuni esempi che possono essere un po' anomali per una realtà di fabbrica. Noi siamo entrati in contatto, siamo stati da due giorni a un incontro con la pregata basata, un gruppo di compagni e compagni che si occupano in particolare della posizione della salute mentale, vista sia dal punto di vista della precarizzazione degli operatori della salute mentale e quindi dello smantellamento della sanità, sia dell'effetto delle necrosi, delle complizioni e delle depressioni. Può essere un delegato sindacale oggi in una fabbrica, vuol dire che quantomeno tu con un pezzo di due colleghi fai l'assistente sociale, perché noi abbiamo almeno 4 o 5 colleghi su 400, quindi poi ci sono le necrosi meno chiare, che hanno chiarissimamente problemi militari. Li abbiamo persi, prima con il Covid e poi con l'inizio della lotta, non sono mai riuscite integrati, perché li avremmo avuto bisogno di un tempo di competenze militanti che noi non abbiamo. Se noi avessimo avuto non una, ma dieci, cento bregati basali e se l'avessimo conosciuto prima, l'avremmo investito loro in questo processo di convergenza. Quindi noi ci auguriamo che loro crescano. Anche se magari poi, il giorno che io mi metto a discutere con loro al capogliere con le tese, potrei domani avere anche delle differenze rispetto a alcune cose che dicono o con noi. Un altro esempio è quando noi il 9 luglio abbiamo dovuto aprire la fabbrica, l'abbiamo aperta a tutti e chi non è venuto perché non ha capito che c'era questa apertura, indipendentemente dalle prime politiche che il gruppo fondante del resto del collettivo di fabbrica aveva, ovviamente si sta aperto sempre a adattare radicali sociali, con le discriminanti solide nostre, però per esempio la finanza critica e i compagni di buona finanza america sono venuti a fare diversi conti fabbrici a parlare con i lavoratori. Io da marxista non sono infavorevole alla cosiddetta finanza critica, però appunto che quando incontravano i lavoratori, non gli spiegavano niente a, vuol dire, non so, di Groudon o di cose di questo tipo, gli spiegavano perché i fondi di sanità integrativa, l'unità salute, con meta, tutto questo, sono il problema per rassuperare, gli spiegavano il funzionamento della finanza capitalista. Ora il fatto che loro in quel momento convercesso, e lo facessero con le loro tesi, dal punto di vista concreto dell'avanzamento della lotta, a noi ci serviva, ci aiutavano a far crescere quei lavoratori, facciamo un lavoro, e tra l'altro in quel momento non avevamo pieno modo di fare, perché eravamo pienamente nella lotta, ma anche per reggere nella lotta avevamo bisogno di noi più rapidamente possibile di trasformare quei lavoratori in attivisti, in persone a tutto tondo, se volevamo leggere dentro uno scontro così forte. La convergenza ci permette anche di approfondire realmente i temi programmatici, di uscire dalla sloganistica. Faccio un altro esempio, l'altro giorno abbiamo avuto un incontro in Faber, che sono venuti loro, con un gruppo di disabili militanti, radicali, che lottano per i diritti alla disabilità, e ci hanno fatto una riflessione a cui noi non saremmo mai arrivati sul tema dell'organzia, no? A livello sloganistico qui siamo pure, io lo sono, credo tutti che siamo qua dentro. Loro ci facevano notare come hanno avuto diversi casi dei loro, che si sono lasciati morire non per un diritto sacrosanto all'eutanasia, ma per forme di impressione, di mancanza di assistenza, e quindi ci facevano notare come il tema dal loro punto di vista fosse estremamente delicato, come se non si bilanciava il diritto all'eutanasia a un diritto alla sanità, all'assistenza. Tutti noi siamo soggetti a forme di stati depressivi, immaginatevi, una persona sola da sola, come gli tolgono l'assistenza per davvero il plegico, cioè che si voglia lasciar muovire, scontato, che non può darsi invece che abbia altri diritti anche alla vita, in un altro tipo di assistenza che in un altro tipo di società. E questo tipo di approfondimenti programmatici durante il suo gioco di funzione agli amuti a Bizzeferi. Quando siamo stati all'ospedale Cariati di Cosenza, i compagni che hanno occupato quell'ospedale durante la zona rossa, il fatto che hanno scelto un approccio non legalità per le zone rosse, e ha pagato, e che hanno occupato quell'ospedale, hanno vinto, perché l'ospedale è aperto, ci hanno spiegato però come i primi infermieri che sono arrivati da un partito IVA, quindi infatti l'ospedale non è riuscito a riaprire. Cioè, scegli effettivamente dentro, vai in profondità alla radice, la radicalità del tuo programma, e ovviamente la convergenza per darsi al bisogno di radicalità, e anche l'insorgenza, cioè collegarsi a punti di lotte reali attorno a cui convergere. E in conseguenza non è il caso che noi siamo artifici ed insorgiamo, poi abbiamo aggiunto che per insorgere bisogna convergere, perché per convergere bisogna insorgere. Cioè, esiste un meccanismo per il quale se tu crei un punto di resistenza, se attorno a quel punto non c'è massa climatica, quindi è arrivata alla convergenza, a quel punto non esiste. Contemporaneamente la convergenza senza punti di insorgenza, cioè senza forse il problema di cambiare rapporti di forza, è un accordo che non va da nessuna parte. e questo ci permette di creare un immaginario collettivo, e ci permette anche piano piano, attraverso, poi in convergenza, riuscire anche un po' dalla lista della spesa. Un altro problema che noi abbiamo è quando, in qualche modo, le soggettività politiche radicali sono state ridotte ad essere minoranze in questo Paese, espulse dal dibattito pubblico, e ogni volta che facciamo un'iniziativa, un documento, dobbiamo sempre fare l'evo della spesa, no? Salario... Insorgiamo invece, per quanto ci riguarda, è, a un certo punto, una scorciatore ambientale che deve contenere tutto quello. Quindi ci permette di creare tutti i punti, classicamente, fanno parte del nostro pagare culturale e politico, più grammatico e classico, ma di scendere nel dettaglio su come noi li chiamo effettivamente per questi criteri. L'altra questione, credo, ho finito, è prendere atto non solo che siamo per fare la convergenza con chi è a favore di questa convergenza, ma la convergenza si rivolge anche a chi questa convergenza non la ritiene utile. Noi pensiamo che la convergenza in questo momento debba essere anche un modo di incazzare chi ritiene ancora di avere il diritto alla frattumazione nel nostro scenario politico sindacale. Questo diritto è perso. Il diritto alla settimana fondazione è perso. Un conto è il diritto alla propria opinione a coltivare, a costruire una propria organizzazione, ad avere le proprietesi con diritto di sacro santo. Un conto è invece coltivare la frattumazione. Ecco, chi oggi nel nostro Paese, nel nostro campo di classe coltiva frattumazione politico sindacale ha perso questo diritto. Ad esempio, finisco questo esempio, noi abbiamo rivolto un appello ai portuali di Genova, al campo, a convergere, siamo resi disponibili, visto quello che stanno bloccando le afri, secondo me questo è un elemento fondamentale dell'immaginario del movimento contro la guerra che ci aiuta a mettere il movimento contro la guerra sui piedi, come dire, a mettere a terra il movimento contro la guerra e a non perdere in discussioni legittime di geopolitica, ma che poi alla fine finiscono per farci dimenticare che ad oggi il primo diritto l'autodeterminazione che noi dobbiamo esercitare non è né quello a favore della patrocaina o dei russopoli, ma è quello degli internazionalisti di fermare che si cresce un militare mondiale, perché questo è il primo mito che mi sento di praticare, e questo qua, in questo paese, vuol dire opporsi all'impio di armi e alla grotta crescente spesa militare. E siccome loro questo lo praticano, noi siamo messi a disposizione per una manifestazione che convercesse in maniera importante già all'impio, già da fine del libro, su Genova, e che fosse un terrore a quel bilancio verso l'organizzazione di libero. Questa manifestazione non si farà, perché il fatto che questo nostro diritto è stato delubbligato per scontri intersindacali, questa è la verità, è perché noi apparteniamo, come colettivo di fabbrica, per lo più, ma l'organizzazione sindacale è diversa da quella del CAD, non è un problema, noi 30 prendiamo il primo, e siccome c'è l'anniversario del governo Tavrovi di Genova, in sua elezione vera e materiale, ma andiamo, andiamo, perché il diritto alla frattuomazione è perso, e andiamo anche quando non siamo unitati a praticare convergenza. Così abbiamo fatto con Alitalia, così abbiamo fatto tutte le volte che siamo andati in contatto con movimenti reali. Quindi, questa è una meraviglia. Ultima cosa, convergenza molto creante, che prima di mettere la mia data, il mio progetto, la mia scadenza sul calendario, mi proprio voglio vedere che cosa fanno gli altri. e, contemporaneamente, mi tengo sufficientemente libero per convergere tra dove si danno i punti di insorgenza. In Toscana, in questo momento, il ricassificatore che vogliono fare per noi non lo faranno, non hanno i rapporti di forza per farlo. La base coltano, non hanno i rapporti di forza per farlo. Lo sgombro della città bene, la luce nostra, nonostante la vorrebbero fare, non hanno i rapporti di forza per farlo. Questo significa che, grazie alla massa critica che noi riusciamo a mettere in campo, convergenza attorno a questi punti, noi non vinciamo, ma loro iniziano a perdere. E iniziano a dover utilizzare il mimetismo politico-sociale per portare avanti le stesse identiche parole d'ordine, perché non hanno più la forza di rinvicarle apertamente. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. tenuto, diciamo, conclusa nella nostra esperienza dentro, ci siamo lasciati dicendo che comunque noi abbiamo continuato a interruggire e a intercettare i due compagni nella loro, per la presenza di Francesca qui è la prova tangibile, nel frattempo i nostri compagni hanno incontrato spesso nelle verbenze e nelle iniziative che fanno incontrato. Quello che ci potrebbe essere molto utile in un impatto come questo è capire in che maniera voi vi siete rapportati con un'esperienza così interessante e urgente come quella di GigaPen, in che maniera il tema dell'insorgenza e della convergenza ha attraversato le vostre sedi, i vostri spazi. Eventualmente, io non so se è il caso, però questa mattina Dario ha trattato un altro suggerimento molto interessante, quello di parlare comunque ad alta voce anche dei modi critici. quindi vorremmo capire come un'altra organizzazione si è rapportata alle variettorie della convergenza e dell'insorgenza, stato molto vicino, abbiamo visto, lo sappiamo, a GigaPen. Grazie. 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 Buonasera a tutti e a tutte, grazie per averci invitato, perché comunque qualsiasi essere un passione di confronto e di dibattito, in particolare su questi temi, è una di... Se vuoi alzare la luce per andare vicino al microfono, così anche la diretta per i punti di venire. Sì? Grazie. Ringraziamo per il invito, perché comunque ogni momento di approfondimento, di situazione, di riscambio di dibattito è sempre positivo, perché chiaramente, come diceva Dario prima, evidentemente la ricetta, la strada, non ce l'ha nessuno e nessuna di noi, se non in questo momento in Italia non saremo investiti come siamo, quindi ecco l'insufficienza di sassuno di noi e l'obiettivo di arrivare a contare, a vincere, noi abbiamo da poco finito un processo all'interno di potere al popolo che ha portato all'inaborazione di un documento politico che è stato discusso da tutte le aziende territoriali e poi votato con una raggissima maggioranza all'attuazione dei documenti, in particolare con i nomi che stai pensando quali saranno i tuoi tesi con già forse tutt'anni specifici che però, ecco, il titolo era non nasciamo per resistere, non nasciamo per vincere. Questo è quello che dovremmo un pochino recuperare come sinistra alternativa, ecco, l'esercizio di non ritenerci comunque quelli del no, quelli che resistono, quelli che vanno a chiedere la loro identità, quelli che hanno paura di contaminarsi, di confrontarsi con l'altro perché si teme spesse volte di perdere una pretesa purezza che ci ha portato quasi a scomparire. Quello che era il senso per cui è nato il popolo nel 2018 era proprio quello di creare convergenza. Ci siamo riusciti, non ci siamo riusciti, è un processo, cioè non l'abbiamo mai pensata come una cosa che si sarebbe data dall'oggi al domani, cioè nel momento in cui è partita la premata, la certa sfida era un percorso che immaginavamo e immaginiamo nel lungo periodo, quindi anche oggi siamo qui a costruire e a confrontarci con chi comunque riteniamo che siano i nostri compagni di strada in ogni caso. Quella che era la sfida, quello che era la mancanza che abbiamo colto era la distanza tra la politica e anche quella comunque della sinistra antagonista e poi le persone, chi vive problemi, chi ha un quotidiano che è lontanissimo sia dalle strutture politiche alle tante parlamentari che proprio sono distanti anni luce, c'è una distanza federale tra chi ha insomma quei ruoli in Italia adesso e chi vive problemi. Però anche rispetto alla sinistra antagonista classica, molto spesso appunto troppo teorica, troppo ideologica e che però non riesce poi a confrontarsi e a ricevere indicazioni dalla base e dalle persone appunto che si pretendono di rappresentare. Quello che è stato ed è il nostro approccio è il cosa vi serve. Noi abbiamo puntato tanto sul mutualismo, tanto è vero che chi magari ha una lettura anche diversa dalla strada che abbiamo provato a percorrere ci caccia di assistenzialismo, di questa cosa qua, di fare qualcosa che è appunto provare a risolvere un problema che però non è legato poi ad agire politico alla costruzione di un immaginario e di una visione. In realtà noi riteniamo che per poter costruire questo immaginario si debba ricreare questo legame con le persone che pretendiamo di rappresentare e quindi partire proprio dal quartiere, dalla parte del popolo, dal centro sociale, mettere su esperienze mutualistiche che ti aiutano anche a fotografare la realtà e a comprendere quello di cui ha bisogno e la sua plazzo di riferimento. Io sono di Diareggio, abbiamo anche interesse sociale a Diareggio. Sono chiaramente esperienze piccole, non abbiamo la pretesa di cambiare il mondo e di essere sufficienti. Però per esempio durante la pandemia abbiamo un sportello marito popolare che è attivo sempre, un sportello del lavoro, un sportello sulla casa e sul diritto alla rifare, la questione delle residenti. Noi stiamo rispondendo da quando è in ente il reddito di cittadinanza, una chiusura al riconoscere le residenti anche nelle vie fictizie dove prima veniva riconosciuto perché comunque di fatto avevi semplicemente l'accesso del sistema sanitario nazionale, adesso siccome è legato al parlamento del reddito di cittadinanza che va a incidere sul comune di cui ti è la residenza, abbiamo le persone a cui non vi è aiutata la residenza e quindi che non si curano a Diareggio, in Toscana nel 2022. Quindi anche quello appunto di costituire uno sportello in cui te vai a mettere delle competenze specifiche durante la pandemia, abbiamo ad esempio messo su uno sportello in resistenza psicologico che è stato utile a servizio, come ad esempio questo, quello medico popolare, abbiamo visto che poi ha virato sulla funzione del residente perché in effetti, almeno in Toscana, nel nostro territorio, quando poi c'è la residenza poi c'è la residenza, magari c'è bisogno di una guida, però poi si riesce. Quindi quello che vogliamo dire è che convergenza che significa? Significa mettere insieme tutte queste esperienze, significa appunto andare a vedere loro in città che sono i soggetti reali e coinvolgerli, perché quello che è stato poi anche tutto dagli ultimi vent'anni e anche poi la parabola ultima, purtroppo, del Movimento 5 Stelle che comunque ha creato grosse aspettative di antipolitica, raccoglieva comunque un senso anche iniziale, anche sistematiche ambientaliste, almeno una parte di questo, che sono state disattese di nuovo, ridute di nuovo, crea sempre questa sfiducia di dire ma tanto non cambia neanche. E invece quello che noi rispondiamo è che esperienze di lotte, esperienze di resistenza, le vertenze specifiche sui termini ambientali che portavo a Dario prima, Coltano 321 si è messa su una mobilitazione che ha inciso, che è andata a intervenire anche in una dinamica istituzionale e che ha portato le tutte risultate. Quindi sul tema specifico, sulle varie questioni, si riesce in questo appunto universo di trafiche e realtà differenti, a avere anche dei risultati. Quello che poi si fa fatica è a mettere insieme il tutto, a fidarci, a lavorare gli uni degli altri e a poter anche capire, appunto come si disse da prima, che non c'è l'autosupposizione di nessuno e che sicuramente vuole diversi. Se è quello che è il ruolo di un progetto politico, è diverso dal ruolo di un sindacato, che è diverso dal ruolo di un comitato o di un comitato ambientalista che si occupa di una passata specifica. E peraltro è la politica, perché ad esempio come si fa questa convergenza di cui tutti parlano e poi appunto siamo abituati a vedere sotto lezioni l'accordo tra i partidini che fanno il cartello vettorale che immancabilmente prende lo zero virgola. GKN è un esempio virtuoso, torno al futuro e alla domanda, come vi siete rapportati? E ci siamo rapportati come è quella che ancora la nostra natura. Cosa serve? Noi con quello che in contributo possiamo apportare. E in questo si è rivelato, ad esempio molto utile, l'arcono rosso, che era un altro strumento che avevamo apportato durante la pandemia, che era sostanzialmente un arcono fatto da turisti e turiste, e da comunque compagni e compagni che si occupano in particolare del diritto dei lavori, perché durante la pandemia era tanto acceso e riscondeva a richieste di lavoratori anche su tutta la questione appunto emergenziale e quant'altro. E questi turisti e queste turiste con altri, insieme agli operai, che poi anche qui non è semplicemente la professionalità, la competenza, è la professionalità, la competenza, messa a disposizione del soggetto che vive in quel momento il conflitto sociale e mentre insieme si riesce poi ad avere una proposta di legge. Anche lì, proposta di legge che però, se non abbiamo, se non abbiamo un senatore e non abbiamo le deputate di manifesta, non arriva mai nell'estante in cui decide. Quindi convergenza è esattamente questo, stare nel conflitto, perché la base è quello, cioè senza il progetto reale, senza il lavoratore o la lavoratrice, senza gli studenti e le studentesse. Abbiamo gli studenti in carcere per aver fatto una manifestazione in carcere. Cioè è una cosa che è allucinante, allucinante. Quindi recuperare tutto questo che c'è nel nostro paese, si muove, non è vero che non c'è, però fa semplicemente recuperare, io con assoluta omissà nel senso di dire appunto nessuno ha in questo momento i numeri per fare la famosa egemonia, però allo stesso tempo senza neanche pensare di non riuscire a incidere, di non riuscire a fare, perché se mettiamo insieme le competenze con i soggetti reali e riusciamo a portarle sul piano della rappresentanza e poi quando si fanno, abbiamo portato con le parlamentari un emendamento alla legge di bilancio per cui la proposta contro le penalizzazioni è stata discussa. Cioè abbiamo portato la politica con quattro parlamentari, quattro legislati e un senatore, quindi con niente, con niente, a discutere un tema di cui i partiti democratici si riempivano la poca perché sono tutti contro le penalizzazioni, sono tutti contro l'ambiente, sono tutti contro la guerra e poi si votano gli aumenti per le stesse militari e si vogliono fare dei baldi dentro i parchi naturali. Quindi anche riuscire semplicemente a portare quella contraddizione e a smascherare quello che è un messaggio assolutamente populista da quello che invece è un disegno, un obiettivo a lungo termine e avere la capacità di essere chiari nei contenuti, cioè anche una convergenza è funzionale, si ha chiarezza nei contenuti e nel perimetro e sulla parte di cui la chiarezza dei contenuti e il perimetro poi è aperta. Io se l'elettore della rega, che comunque è quello che poi ci stiamo aperti per strada, piangere, si interessa di chiare, noi abbiamo partecipato alle elezioni amministrative a Tamaiole e stiamo riusciti a rileggere un consigliere comunale passando i 4,8%, molto secco, una campagna elettorale che sta a un soldo, un candidato sindaco che intramma la campagna elettorale, ci sono condizioni veramente che dire salita e dire poco. Ci siamo riusciti a fare con la Fondazione Comunista Poter al Popolo, quindi comunque soggetti che non hanno poi neanche questa bruttissima rappresentanza, perché stiamo stati chiari sui punti, abbiamo parlato con le persone, abbiamo fatto una campagna elettorale in cui abbiamo individuato quelle 4-5 cose che erano necessarie per il tramaiore e su quello abbiamo trovato delle risposte confrontandosi con i comitati, con le associazioni, con i cittadini e le cittadine. E questo poi, se viene fatto, chiaramente con la costanza del tempo, cioè uno se viene oggi e lo accoglie domani, non c'è niente che viene così estemporaneo, però se uno mantiene la coerenza e la chiarezza, poi deve avere la capacità di parlare con tutti, perché quando il nostro ammirato sindaco, compagno, comunista, ha fatto il confronto con gli altri due e quelli che sapevamo essere elettori di Lega, della destra, eccetera, applaudivano, alcuni compagni hanno detto, ma io non voglio gli applaudi della Lega. Ma io se sono sui miei temi e se riporto quella che è la mia base, il mio blocco sociale, al mio disegno, al mio imaginario e mi voglio sì, al mio obiettivo, e il problema è che ora sono di là. Però ecco, come costruire tutto questo? Fa parto tutti in came e bisogna semplicemente, appunto, dismentere un po' di identitarismo che non cerca neanche a nessuno e recuperare il contatto con quella che è la nostra gente, perché c'è e sta aspettando dei segnali e la Francia e la Colombia, insomma, sono abbastanza... ed anche abbastanza cari in questo. Chiudo dicendo che bisogna ricorciare assolutamente quello che vi dico dei giovani e delle donne. Io partesco a vari conti, a vari tavoli. Quando siamo ai tavoli in cui si decide, ai tavoli di vertice, appunto, a prendere decisione, non solo a fare il numero, sono sempre costumati. O quali? Sono sempre costumati. Quindi questo è un punto che dobbiamo incorrere, perché, comunque, donne preparate, interessanti, non tanto perché c'è un'altra parola, ma ci sono, ci siamo, è un argomento che vanno a un momento al posto in cui si mettono di stare. Grazie Francesca. Intanto, signora Zuliano, se ti puoi avvicinare il microfonino. Mi ha detto bene, con l'audio, la diretta... Sanificare i microfoni. Che succede? Sanificare i microfoni. Sanificare i microfoni. Danti quello. Danti quello. Che poi, dopo, tazzo quello che si chiama. Ok. In qualche modo, Simone Zuliano, una delle deputate che già hanno vita questa esperienza particolare, del gruppo Manifesta, è stata tirata in palo da Francesca, era quello che noi speravamo, perché l'avevamo, diciamo, immaginando proprio, in questo senso, il dibattito. Prima di parlarne di cos'è il gruppo Manifesta, perché è vero che nel prossimo giro di risposte ci sia, diciamo, lo faccio il punto per capire che cos'è Manifesta, noi volevamo sapere, da te, da te, se, in che modo siete sollecitati dalle pretenze, quindi, in che modo il vostro lavoro può essere utile alla convergenza, in che modo può essere completamente utile a chi oggi, in Italia, si trova a dover affrontare un conflitto nelle condizioni più difficili di sempre. Simona Sumiano. Grazie, grazie per avermi invitata a questo importante appuntamento. Manifesta nasce dalla convergenza di quattro deputati, quattro colleghe, che dopo l'espulsione del Movimento 5 Stelle, perché abbiamo citato di votare la fiducia al governo Draghi, cosa di cui vado fiero ogni giorno che passa. ringrazio Dio di aver fatto questa scelta. Abbiamo deciso di unire le nostre stanze, le nostre idee, le nostre battaglie, che già ci vedevano unite prima, durante l'esperienza, durante, appunto, dentro il partito del Movimento 5 Stelle, portando avanti dei temi delle stanze che poi non trovavano comunque risposta dentro il partito, quindi abbiamo deciso di costituirci come componente con il supporto, di potere al popolo e di fondazione comunista. È chiaro che l'80% del nostro lavoro teniva dalle istanze territoriali, quello che i partiti, ma anche i comitati, le associazioni, tutti coloro che ci contattano, sono quelli che poi ci danno il motivo di rappresentarli quotidianamente dentro quei palazzi. Quindi, come diceva giustamente Francesca, è importante essere sì sui territori. È importante anche far capire che non tutti coloro che stanno dentro i palazzi sono lontani dai territori. noi partecipiamo alle manifestazioni, con tutta le portano, con tutta le diverse manifestazioni. È importante riavvicinare questo contatto tra istituzioni e cittadini. Ed è importante anche comunicare, un po' anche questo è il nostro obiettivo, quello che succede dentro i palazzi. A mio avviso in questo momento stiamo attraversando una grave assenza di democrazia. È fortemente compromessa la democrazia, di modo a tutti che il Parlamento ormai non ha uno sforzo a suo ruolo, se non quello di ratificare continuamente i decreti, o votare finte risoluzioni. L'ultima è stata quella di qualche giorno fa, quando è venuto Draghi a riferire in aula, una risoluzione che, come diceva la stampa, addirittura la stampa, che il Governo dovrebbe farla il Parlamento la risoluzione, non il Governo. Quindi ormai è palesato e chiaro a tutti che il Governo se la canta, il Governo se la suona e il Governo se lo vuole quasi. Se non fosse perché la Costituzione pone di passare dal Parlamento, sarebbe anche stupezzo passare dal Parlamento. Così come voglio raccontare anche il rapporto incestuoso, chiamiamolo così, tra maggioranza e opposizione, sempre durante l'occasione dell'ultima informativa di Draghi, il Governo ha dato la libertà di espressione al Parlamento sulla risoluzione di Fratelli d'Italia. Mentre quando noi abbiamo chiesto anche che la nostra risoluzione venisse rimessa al Parlamento, e quindi ciascuno liberamente votare di scienza e di coscienza, il Governo non ha voluto, quindi ci ha dato parere contrario. Quindi vediamo come il Governo in questo momento ammicca a Fratelli d'Italia, la risoluzione di Fratelli d'Italia che poi è passata grazie all'astenzione di tutti, è ovviamente un voto favorevole d'oro, il voto contrario nostro, e quindi abbiamo anche questo rapporto incestuoso, per cui attualmente si può dire che non esiste neanche un'opposizione in questo Paese, se non per noi quattro e qualche collega del misto che ha ancora una coscienza, in questo momento non esiste neanche più un'opposizione in Italia. Non esiste il Parlamento, non esiste l'opposizione, quindi per me è chiaramente compromessa la democrazia di questo Paese. Detto ciò, un'altra cosa che volevo raccontare, mentre attualmente il Movimento 5 Stelle sta passando, vuol far passare la linea dell'essere pacifisti e dell'essere contrari all'unire delle armi, sono coloro che hanno votato comunque l'aumento della spesa militare, hanno comunque votato il decreto ucraina che fino al 31 dicembre di quest'anno permette di inviare armi senza passare dal Parlamento, e quindi anche lì il Parlamento è completamente esaurato, non sappiamo neanche cosa e quanto stiamo mandando, anche lì totalmente decretato, mentre in altri Paesi c'è l'elenco del materiale tecnico che viene mandato in Ucraina, noi non andiamo in diritto di sapere cosa mandiamo. E lo stesso Movimento 5 Stelle ha votato l'altro giorno alla rivoluzione di maggioranza che prevede di continuare con l'invio delle armi fino al 31-12 nel 2022, secondo quello che vuole il Governo. Quindi per noi è fondamentale, come hanno detto chi mi ha preceduto, convergere con la società civile, con i partiti di sinistra alternativa, di sinistra per me autentica, non alternativa, perché parlare oggi di PD come sinistra o di Movimento 5 Stelle come di sinistra per me effettivamente niente a ridere se non sa piangere. Quindi noi vogliamo riportare la sinistra autentica dentro le istituzioni e dentro i palazzi, ma non perché è un momento in cui ci si deve posizionare lì e far carriera. Il nostro obiettivo è quello di creare questa coscienza collettiva, come appunto ha fatto GKN e come hanno fatto anche i cittadini di Cortano, riunire tutte quelle istanze che partono dai territori, affinché si arrivi agli appuntamenti elettorali coesi, compatti, superando le piccole diversità che poi noi non essendo iscritti a nessun partito abbiamo notato sostanzialmente la convergenza su quasi tutti i temi, se non piccole differenze, per cui per noi appunto noi iscritti a nessun partito ci siamo chiesti ma perché siete divisi in mille partitini, in mille rigoli quando comunque siamo sempre nelle stesse piazze, portiamo avanti gli stessi temi, ci ponete le stesse interrogazioni, su un tema mi vengono da due o tre partiti le stesse interrogazioni, quindi perché dividerci quando siamo tutti sullo stesso obiettivo, sullo stesso tema. E quindi per noi è fondamentale ricostruire questa base partendo dalle esigenze che c'è veramente tante esigenze, ci diamo l'Italia e c'è tanta serie di sinistra autentica che secondo me è stata anche raccontata male negli anni, è un po' deligrata, lo parlavo con mio padre, fuori, i colleghi ci vedono un po' come estremisti, radicali, che in realtà siamo semplicemente quelli, secondo me, di buon senso, che vogliono riportare certi temi che per noi sono scoppati dall'agenda politica. Negli ultimi vent'anni, 30 anni, la classe lavoratrice, l'ambiente, i più fragili, sono stati completamente abbandonati, non sono più temi che vengono portati dentro le istituzioni, si parla sempre di ripresa economica, di imprese. Negli ultimi vent'anni è il palese che la classe imprenditoriale è stata abbandonata a livello di tassazione, si parla di plan tax, per carità nessuno vuole distruggere il sessuto imprenditoriale italiano, è anche vero che la classe lavoratrice è stata maggiormente colpita rispetto alla classe imprenditoriale e non è un caso se negli ultimi 30 anni i salari in Italia non sono aumentati, ma anzi sono migliori rispetto al resto d'Europa. Quindi una domanda ce la dobbiamo fare. Questi sono temi che non vengono più portati dentro i palazzi e quindi c'è stata anche una narrazione della sinistra autentica come una sinistra radicale, quelli che dicono sempre no, che non vogliono portare sviluppo, non vogliono portare progresso e quindi dobbiamo ripostruire anche questa narrazione della sinistra autentica come la sinistra vicina ai cittadini, vicina alle istante territoriali, vicina alle imprese che rispettano l'ambiente, che rispettano i lavoratori, che rispettano i diritti umani, nessuno vuole uccidere il sessuto imprenditoriale. Io mi auguro che questa esperienza, così come l'esperienza GKN e l'esperienza Coltano, riescano a far rinascere una coscienza appunto da parte dei cittadini, perché un'altra cosa che ho notato in questo momento è che non ha più potere i cittadini che si organizzano e convergono che i parlamentari, perché quando abbiamo portato il tema di Coltano, il tema della GKN dentro i palazzi, dentro il Parlamento, con soprattutto le battaglie loro, da loro insistere, resistere e lottare per questi temi, la politica ha dovuto occuparsene. Quando i cittadini non si organizzano e non resistono, la politica fa finta che non esiste il problema. Io ho avuto il problema della Pfizer a Catania, i lavoratori non si sono ben organizzati, non hanno resistito, il problema non è stato minimamente percepito dal governo, nonostante le mie interroversioni, le mie interpellanze, il paziente alla Pfizer se ne va da Catania, amen, non è un mio problema. Quando invece i cittadini si organizzano e i cittadini resistono, il governo, per non fare brutta figura o comunque le istituzioni per non fare brutta figura di fronte all'ominione pubblica, deve considerare il problema, deve occuparsene. Quindi per me è fondamentale ripartire dalle lotte. Ci aspetta un aglunno, non so se vi dito caldo o freddo, visto che dovremo azionare anche l'energia e il gas probabilmente. tra l'altro tipo l'inciso, le sanzioni stanno facendo più male a noi che alla Russia, ciò diceva la smasciatore italiana Russia che le sanzioni non hanno minimamente toccato l'economia russa, anzi sta crescendo grazie agli accordi con Cina, Brasile, l'India. Quindi stiamo vivendo dei disagi per l'ingresso in guerra che gli italiani non vogliono. e quindi vivremo un periodo, un aglunno caldo o freddo, dove io mi auguro che i cittadini vi sia un sollevamento, una presa di coscienza da parte del popolo e di convergere. Non è il momento di dividerci, è il momento di unirci nella ripresa dei nostri territori, dei nostri diritti e con la consapevolezza che quando ci si organizza si riesce a farci sentire anche dentro i palazzi. Si vede che riguarda i tempi contingenti, il Dipartimento ha finito a 10 minuti e 2 secondi. Il record da parte le siamo noi con il Suriano e ovviamente ringraziamo. E in qualche modo la domanda a Dacerbo l'ha formulata proprio Simona Suriano in alcuni passaggi. Lei ha detto perché siamo divisi in mille libri e credo che l'osservatorio di rifondazione comunista sia un osservatorio privilegiato per mettere a fuoco una domanda di questo tipo. Benvenuto a Maurizio Cervo anche se nelle forme della politica a distanza della PAD. Un saluto a tutte le compagnie e i compagni. Per chi è dividerci io sono veramente d'accordo con Simona e è una domanda che mi pongo da tanto tempo. Dottoriamente sono uno stremo assertore dell'unità, anzi molto spesso mi è stato anche imputato di essere un po' troppo unitario. Io praticamente ne sono molto convinto, penso che sia una precondizione per fare tutto il resto. Ritengo che sia stata una sciargura la frammentazione della vecchia rifondazione comunista dell'Unità qualunque fossero le ragioni, però ovviamente ognuno ha fatto le sue scelte e quindi non voglio fare storiografia e soprattutto voglio farlo in questa sede insomma con compagni e compagni con cui tra l'altro ovviamente sono andato sempre d'accordo anche in anni lontani, anzi non soltanto diciamo sui contenuti e le scelte ma avvicinati ma molto spesso anche sull'emissione della storia del Novecento, quindi è l'ultimo posto in cui insomma ho da risentire. Io sono completamente d'accordo con una domanda che implica una risposta di Simone. In passato mi è capitato di avere dissenzi con chi mi teneva anche nell'esperienza iniziale di potere a poco che a cui abbiamo partecipato tutti e che per me, come diceva la compagna, aveva il valore non della costruzione di un nuovo partito ma proprio della convergenza. Credo che sia un fatto molto positivo e un po' è stato anche imparato, preso insomma da nato merito alle compagnie di manifesta che in questo anno abbiamo superato qualche ruggine con le compagnie di potere a poco perché alla fine nonostante i problemi che abbiamo avuto qui siamo ritrovati sempre nelle stesse piazze, nelle stesse lotte, con le stesse posizioni e parole d'ordine su tutte le questioni essenziali. Credo che questo inizio di unità non vada giudicato inizialmente, io a volte sento nel linguaggio nostro per lui comunico, per esempio accrocchio. Io dico è ovvio che se dei militanti si mettono insieme, come fanno tutti questi centristi che li litigano, poi si mettono insieme, poi si gridano, eccetera, è un accrocchio elettorale. Ma se dei militanti rivoluzionari o comunque dei militanti anticapitalisti, antiliberisti, ambientalisti, insomma delle persone che lottano, si gridano insieme per condurre una lotta o una presentazione elettorale e non c'è nulla di madre. È molto peggio quando ci presentiamo un po' separati. che sta adesso? Un'inizio, ti abbiamo perduto. Adesso, forse ci sei voi. Mi sentite? Adesso sì, adesso ne abbiamo ripreso. E vabbè, sarà un problema il collegamento perché con l'aluminismo non è migliorata la qualità delle connessioni in Italia. Solo gli affari fanno pagliacche. Finché non metteremo un cyberpunk in qualche ministero non si chiederà un regno da tutto. Ma comunque dicevo, faccio un esempio. L'ultima giornata elettorale, non questa. In questa siamo, meno male, siamo sempre stati d'accordo laddove, insomma, ci eravamo. Quasi comunque. Ma precedenti campagne elettorali, amministrati da Torino, tutti insieme, noi piccole formazioni della sinistra di capitalista. Intesa del senzionale. non abbiamo preso il 25% di Melesciogno, però un individuo sul 2,5% che ha un cittadino, un lavoratore, un lavoratrice, una precaria, un precario alla linea, esistono. In altre città abbiamo presentato 3, 4, 5 candidati, un realista in competizione tra di loro e la competizione è stata tra lo 05, lo 06, lo 07, lo 04. Beh, e la differenza tra un'area che lavora insieme e cerca di costruire un'alternativa e delle forzazioni che qualsiasi lavoratrice o lavoratore considera un caso psichiatrico o una panzelletta. Quindi l'unità tra di noi, anche sul terreno che viene considerato un po' di snobbismo estremistico, l'espressione di Pasolini a volte l'anno come il terreno elettorale, l'unità è il miglioramento. A mia modesto parere ha senso dividerci solo quando ci sono delle ragioni forti di divisione. Certo se ci sono posizioni strategiche differenti, giusto? Ma quando, come oggi in Italia, anzi come da qualche anno in Italia, abbiamo le messe posizioni, la divisione è un peccatato, grave, è una fesseria. E questo a mio parere riguarda ancora di più la funzione delle lotte. Io sottoscrivo dalla ultima parola quello che ha detto Dario. Io francamente lo dico. Io ho pensato alla lotta della GKM per quello che ha espresso il collettivo di fabbrica. Per me è secondario che i compagni di GKM siano iscritti alla CGL. L'avrei apprezzato lo stesso se erano dei COPAS, se erano dell'USB, se erano dei CUP, non scusatevi se non ecco tutte le stile, se erano dei COPAS. Ora, la logica per cui nel nostro piccolo mondo del sindacalismo conflittuale è il fatto che i compagni di GKM siano della CGL e della FIOM, maggioritariamente a qualche ho capito come scrizione, diventi una colpa, un problema da cui difendersi. Io credo che sia sintomo di una malattia che riguarda la nostra area, come le piccole conflittualità e competizioni tra le nostre organizzazioni per prendere la testa del corteo. Io credo che siano tutti atteggiamenti, ovviamente, da superare e da superare perché quando noi riusciamo a costruire una lotta vera o un'esperienza anche sul terreno elettorale espansiva, per tutti quelli che si coinvolgono, per la maggior parte, non sono aderenti a nessuna delle organizzazioni che ci diamo. Magari lo sono stati, magari ci vogliono tenere a tutti quanti, se ci mettono insieme e dicono di via vicino, se siamo divisi e anche se avvicinano dicono, va bene, se non vi siete messi d'accordo tra di voi perché mi venite a chiamare. Allora, conflitto. Io credo che ci sia un elemento fondamentale, lo citava Dario, che è il principio di realtà da cui partire. Questo paese era il paese in cui la sista radicale, anticapitalista, liberista era più forte dell'Europa, aveva una capacità con i movimenti e quando eravamo uniti con una rifondazione di mettere in piazza a 100 mila persone quasi tutti i weekend. Cioè avevamo una capacità di comunicazione di comunque andare in Europa più in diventità e in diventità. Poi è cominciato il riflusso per tante ragioni che noi conosciamo, siamo anche piuttosto d'accordo sulle diagnosi, essendo stato io uno di quelli che proponeva di far cadere il governo Prodivis, come presumo sappiate tutti in quella sala, quindi non sono diventato più un radicale posteriore, diciamo. Però è andata così. Questo principio di realtà dovrebbe, a mio parere, indurre tutto e tutti a uno spirito sincero di convergenza, a bandire l'idea di egemonismo tra di noi e di competizioni che saranno di suicidio. A me fa piacere, nella creazione della mobilizzazione di Cortano hanno svolto un ruolo fondamentale, insomma un'esperienza in cui il rifondazione è protagonista, non la lista, insomma la coalizione con Ciccioletta a Pisa e via discorrendo. Ma per qualcuno è fondamentale, se quel consigliere che ha dato l'annuncio e ha fatto la chiamata era più vicino a Tizio Cari per Sepronio, non era fondamentale che c'è stata una chiamata e abbiamo tutti risposto e soprattutto ha risposto il territorio, la popolazione, l'associazionismo e via discorrendo. Ora, io credo che abbiamo molte miserie da cui liberarci un mondo da guadagnare, parafrasando il buon vecchio Carvaz che se intendeva, e che le sette siano sempre inversamente proporzionali al movimento reale. Noi siamo oggi delle piccole minoranze militanti, però credo che dobbiamo evitare ogni spirito settario tra di noi. E non solo tra di noi, ma neanche con la realtà esterna, perché evidentemente noi non siamo dei geni incompresi, anche nelle nostre modalità di fare movimento, lotte, politiche, comunicare, ci sono evidentemente dei limiti. se uno poi in Casaleggio è arrivato insieme a Peppe Grillo e ci ha schiamato ben dieci anni con una cosa, lo posso dire, sicuramente si prenderà sicuramente, o si fa rocca con un movimento che aveva eletto un personaggio. Insomma, vanno con tutto quello che è con tutto. Su questo concludo, ed io cito una compaglia a tutti noi molto cara, e la cui elaborazione io almeno sono molto debitore. Lidia Menapace diceva che ci dovevamo liberare dell'idea del partito monoteista, che dico anche del sindacato monoteista del collettivo monoteista. Io credo che sia fondamentale, perché la emergenza prevede che nessuno di noi pensi che la data che ha pensato lui è quella più giusta e l'unica importante, prevede che non ci sia una gerarchia se non quella che riconoscevamo tutti quanti insieme delle scadenze e della verdezza, quella che è più spazziva o più percepita, più rilevante. E questo io credo che Lidia ci ha lasciato in eredità una riflessione sulla complessità molto importante di cui dovremmo tenere conto nell'opera di ricostruzione in cui siamo chiamati anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. E d'altronde lo spirito che ha evocato Dario, che è stata la base anche della convergenza tra lavoratori in CKN, ragazze e ragazzi e movimento Fridays for Future, e alla fine lo spirito per cui ci entusiasmamo per la rivolta di Seattle e per noi siamo un po' più anziani nel 1999, quando vedemmo insieme chi si batteva per le tartarughe, insieme ai camionisti ai portuali metallurgici. Quello è lo spirito con cui abbiamo fatto grandi cose e dello spirito con cui credo possiamo tornare a farle. Grazie. Grazie per aver contribuito a proseguire nella traccia che ci eravamo dati in partenza di questa già lavorata domanda. Armando Mongia è stato appena citato da Maurizio un elemento che a noi, gli sinistri amministrativi e realista, che noi riteniamo caratterizzanti, noi abbiamo scritto ecosocialismo sulla nostra bandiera insieme alle altre collaborazioni che abbiamo scelto per la nostra organizzazione. Il passaggio di convergenza tra CKN e Fridays for Future è stato molto importante per noi, perché è importante che anche i ragionamenti sulla ricomposizione politica passino sempre e comunque dal movimento sociale. grazie. Allora, l'ultima questione appunto che chi lo pone sulla convergenza nei movimenti, nell'esperienza anche che la CKN ci ha consegnato, in realtà mi dà un doppio stimolo nella riflessione. Da un lato appunto quell'esperienza della GKN che nasce da una vertenza sulla delocalizzazione ha avuto innanzitutto la capacità di non rinchiudersi su se testa, ma di rilanciare invece una modalità che è oggi da leggere in maniera innovativa rispetto alla tema della convergenza e dell'esorgenza, ma che però, come dire, questo Paese e le nostre organizzazioni, come già viene detto, hanno attraversato, attraverso appunto i social poli, nel movimento dei movimenti e altri mondialisti e su questo, come dire, però un passaggio necessario è farlo senza, come dire, riaprire in questo momento, perché non è il luogo corretto, un'analisi di quella decadenza. Però le macerie che abbiamo vissuto, di come oggi i cittadini, i lavoratori, le lavoratrici e le cittadine ci vivono, anche quello che ci raccontava la Sudiano nel rapporto tra istituzioni e movimenti, è stato determinato anche, come dire, da cui le macerie si sono determinate partendo dall'idea e dal presupposto che i governi a un certo punto erano permeabili ai movimenti. Questo, come dire, è l'elemento di rottura, di decadimento di quell'esperienza. Per cui oggi noi dobbiamo assolutamente ripartire sulla costruzione della convergenza e dell'insorgenza, avendo assolutamente chiaro questo elemento per non commettere nuovamente gli stessi errori. E sulla questione, appunto, che si è determinata in questo anno, insomma, che abbiamo attraversato, sulla spinta dell'esperienza della GKN, che io citava da ultimo tutta la questione al rapporto con le questioni ambientali e il nostro approccio ecosocialista, per una lettura complessiva di quella che è la proposta politica. E anche la GKN, per esempio, ha fatto più volte una riflessione sulla questione del modo di produzione, su cosa che occorre e su questo ha legato un rapporto particolare con quel movimento che si è espresso in particolare a Firenze nell'ultima manifestazione. Però, come ieri lo stesso Dario ci invitava a fare, come dire, affrontare anche i limiti che dobbiamo in qualche misura superare. Ad esempio, un limite fondamentale è quello che quell'esperienza non è riuscita a ingenerare nei luoghi di lavoro, nei luoghi di produzione, quella stessa spinta propulsiva. Allora, se noi vogliamo raccogliere la proposta che a Firenze nell'ultima assemblea è stata fatta sulla mobilitazione autunnale, che non va data mai per scontato, cioè quando si fanno i seminari a fine stati sarà un autunno caldo. Vi prendo no perché sarà un autunno drammatico per la classe, per i lavoratori e le lavoratrici se continuiamo chiedendo in queste condizioni. Però, se vogliamo cogliere quell'esperienza, è necessario partire da questi elementi di debolezza che però sono nati. Uno, da una condizione di rassegnazione spesso esistente nei nuovi lavori rispetto all'atteggiamento sindacale e delle organizzazioni anche politiche esistenti. Dall'altra, anche da parte dei sindacati, cioè dalla competizione che si determina nei confronti di quell'esperienza particolare che la GKN rappresenta. Per cui, anche rispetto alla costruzione di quella accumulazione che noi vogliamo costruire e che si determini appunto in autunno, è necessario ad esempio affrontare e moltiplicare queste vertenze attraverso un'azione che ad esempio nell'attività congressuale che si avrà all'interno della CGL nei prossimi mesi non ci siano ambiguità su da che parte stare. Cioè, lì è necessario che la spinta e il dibattito all'interno di quell'organizzazione che comunque con tutti gli elementi di criticità è un'organizzazione di massa, si spinga affinché le posizioni concertative di Landini vengano in qualche misura messe in discussione. L'altro elemento da evidenziare è che il rapporto che si è creato anche durante l'Assemblea di Firenze tra i sindacati di base e la spinta a costruire un autunno pertenziale in cui c'era la rincorsa di alcuni sindacati di base a fissare da subito una data per l'autunno, cioè è non capire come si costruisce la convergenza. Per costruire la convergenza è necessario accumulare questa capacità di mobilitazione, di conflittualità nei luoghi di lavoro, dell'insorgenza. Sono state citate ieri, non a caso, anche nella pratica di questa convergenza era qua ciccioletta che abbiamo invitato proprio rispetto all'esperienza dell'artipisa e della base di Ortano e di quello che questo governo nella sua complessità sta portando avanti. Un altro elemento sul quale ovviamente questa capacità di convergenza va costruita è anche un elemento che sta all'interno del dibattito politico attuale e che è quello della guerra, sul quale ovviamente non possiamo non tener conto, in cui c'è una condivisione rispetto a quello che è l'atteggiamento di questo governo all'interno di una lettura capitalista e quindi della necessità di una ricorsa agli armamenti che non nasce appunto dall'ultimo decreto Ucraina ma che già era presente, l'obiettivo del 2% del BIL, ma che in qualche misura però si determina in un sostegno a quello che è un rischio assoluto reale in cui il sostegno giustificato a quella guerra non deve però impedire a noi stessi di essere chiari su alcuni elementi di lettura di quel conflitto. A nostro avviso ci sono due elementi fondamentali, cioè una denuncia assoluta di quella che è l'invasione di Putin nei confronti dell'Ucraina. Questo è l'elemento di partenza in cui c'è una solidarietà chiara nei confronti della popolazione ucraia che sta subendo dei bombardamenti, che sta subendo una guerra, una solidarietà a chi in Russia si oppone a quella scelta di Putin con questo remascismo della grande Russia e questo è un elemento centrale di lettura di questo elemento sul quale noi vogliamo costruire convergenza. Ovviamente abbiamo la necessità anche di descrivere complessivamente quella che è la azione di un conflitto che però noi leggiamo oggi anche come interimperialista sul secondo livello, cioè un tentativo e uno scontro di egemonia che si determina in questa fase soprattutto in relazione ad una crisi di risorse che spingono le potenze capitaliste quindi con modalità diverse dai paesi occidentali, gli Stati Uniti da un lato, dall'altro appunto la spinta della Cina e della Russia nella conquista di egemonia e di risorse per determinare e superare la crisi di capitalista che appunto la borghesia vive e su questo io non ho la necessità di scegliere un contendente piuttosto che l'altro con un atteggiamento campista la mia posizione è di denuncia della guerra nella necessità di ricerca di una politica di descalation perché è solo questa che determina la vittoria della classe, cioè la fine della guerra è una vittoria dei popoli e della classe che noi vogliamo in qualche misura ricercare perché questa attività e la necessità di costruire la mobilitazione autunnale deve essere centrata sulla questione della crisi economica dei lavoratori e delle lavoratrici che oggi subiscono in una lettura complessiva che tenga presente anche appunto la questione della guerra e l'ultima questione sulla quale vado a chiudere è anche la questione delle elezioni che è stata toccata poi non so se ci torneremo nel secondo giro e delle esperienze diciamo già fatte e anche qua ci dobbiamo dire affrontare e parlare con estrema fracchezza noi siamo stati un soggetto costituente di potere al popolo di una spinta positiva che si era determinata grazie appunto al lancio che i compagni dell'OPG hanno avuto la volontà e voglia di fare e la fase post elettorale però ha determinato uno scontro per leggemonia, il controllo, l'autocostruzione e allora come dire oggi è necessario in questi dibattiti, in questa fase superare, poi magari ci entreremo più nel dettaglio, i buoni propositi ma partire anche come dire dagli elementi che hanno fatto fallire con l'esperienza politica che poteva essere oggi una risposta ancora più forte e di connessione con i movimenti sociali ma su questo penso sia un tema che raccontiamo più avanti, grazie grazie infatti la conseguenza di tutto quello che ci siamo detti fino adesso è anche un inizio di ragionamento che può essere appunto uno scambio sia di considerazioni sia di aggiornamenti su uno dei temi che comunque monopolizzerà l'attenzione mentre ci saranno lotte in corso e confergenze in corso un altro tema che contabilmente domani i compagni contribuiranno ad arricchire la discussione è quello che sono le ripercussioni che questa decisione della Corte Superamericana avrà sul diritto all'autorizzazione delle donne anche qui da noi ma appunto uno dei temi che sicuramente condizionerà il nostro agire nei prossimi mesi sarà anche l'avvicinarsi alla scadenza del 2023 quindi io penso che potremmo partire da Simona Sudiano per avere anche un elemento di informazione su a che punto è la discussione sulla legge elettorale e secondo voi di manifesta che cosa sta per succedere anche come ricaduta su questa aspirazione all'unità della ricomposizione che è stata evocata spesso in questo dibattito di nuovo Simona Sudiano va bene l'audio? Maurizio ci senti? danci il segnale perfetto? ordine ora sento anche a te benissimo ok sì allora per quanto riguarda legge elettorale ancora più che altro leggo notizie ma di concreto non si sta muovendo tanto è chiaro che la riduzione dei battamentali e anche i vari movimenti abbiamo visto appunto la scissione del Movimento 5 Stelle ma sì che molti stanno ripensando dell'opportunità di una legge proporzionale ci sono movimenti strani a me allora io non riesco a fare un disegno di quello che accadrà secondo me stiamo vivendo un momento molto confuso il Movimento 5 Stelle si è scisso l'operazione di Luigi Di Maio dentro i palazzi è stata vista come una grande operazione l'altro giorno quando è venuto in aula è stato accolto e fragito da tutti gli esponenti di tutti i partiti quindi una grande operazione di palazzo che vede ancora alcuni colleghi o fanno un po' con i colleghi dell'altro fronte alcuni colleghi che sono rimasti nei 5 Stelle sono tentati di andare con Luigi Di Maio quelli che sono andati con lui vorrebbero organizzare il Movimento c'è tanta confusione quindi io non so che cosa accadrà da qui al 2023 come ci si posizionerà, come si posizioneranno ho percepito che il Movimento di Conte probabilmente uscirà perché dal Governo non sostenerà più questa maggioranza ma anche perché a livello elettorale non vi conviene più sostenere questo Governo nonostante io voglio ricordare le colpe di cui ho visto in questa realtà per carità cioè finora hanno subito, hanno accettato tutto quindi gli ultimi sei mesi non lo so forse il direttore degli ultimi sei mesi si convinceranno della bontà della proposta del Movimento 5 Stelle non lo so quindi in questo momento io non riesco a fare una previsione di quello che accadrà so che noi comunque ci stiamo continuando a muovere nel cercare l'unità di tutte queste istanze la porta di gente di tutte queste istanze i movimenti, i partiti per dare un messaggio chiaro, netto se il Movimento di Conte vuole abbracciare questo nostro messaggio essendo però chiari nelle nostre scelte anche nelle loro scelte cioè un po' è quello un motivo per cui io mi sono avvicinata nel Movimento 5 Stelle c'erano alcuni temi netti, chiari che mi speravo che una volta in Italia il governo si portassero avanti salvo poi pentirsi sulla via di Damasco quindi se il Movimento di Conte accoglie le nostre battaglie le nostre richieste vuole sposare le nostre richieste non lo so, io non ho idea noi continuiamo sulla nostra strada che è quella sul punto di convergere con temi che poi sono i temi dei cittadini che vivono quotidianamente il problema dell'ambiente io vengo dalla Sicilia dove peraltro l'appuntamento elettorale in Sicilia precede quello nazionale quindi dobbiamo affrontare anche l'appuntamento regionale prima quindi noi vogliamo rispondere alle esigenze delle classi che stanno soffrendo di più che sicuramente questa guerra non sta minimamente favorendo vogliamo dare una risposta chiara, netta, senza paura per me non è estrema è una risposta chiara e netta sperando che il cittadino capisca che c'è bisogno di cambiare anche perché purtroppo devo dire, la prima del punto del governo il Movimento 5 Stelle non ha dato quella speranza di cambiamento perché chi come me ti aveva pregunto e ti ha dato tempo e risorse che sperava appunto nel cambiamento ci vediamo sperando che questa sia una vita buona grazie allora sarà un po' più concisa dell'altra volta e io non seguirò come avete capito l'ordine di prima perché mi interessava sentire Armando che prima ha detto una cosa da quando la sinistra non è stata più percepita utile perché durante il governo Brody ha perso la faccia ha perso l'elettività proprio perché non è stata utile a niente non abbiamo portato a casa niente non solo con le organizzazioni politiche non tanto con le organizzazioni politiche ma come classi popolari durante i due governi Brody che sono quelli che hanno visto il coinvolgimento della sinistra radicale abbiamo dovuto, come si diceva solo una volta, invogliare i rischi ecco, adesso per invertire la tendenza che cosa si aspetta una forza che, come dire non ha una massacrita a disposizione ma sicuramente ha una lunga esperienza e un traditamento in alcuni settori come sinistra radicalista Riccino è partito diciamo dall'esperienza che io stesso avevo citato di qualche anno fa e che ha determinato, come dicevo, anche deteriorarsi dal rapporto tra quella che era una sinistra di movimento e i movimenti stessi, i lavoratori, le lavoratrici però mi piace anche per rifare un passaggio successivo cioè tra quelle esperienze d'oggi è successo anche qualcosa e l'avevo prima appena citato cioè questa necessità e voglia di utilizzare le elezioni non solo come, diciamo, non come elemento e strumento che si basi sull'idea che siano centrali per il cambiamento dal punto di vista sociale ed economico che noi aspettiamo ma come momento anche di proposta politica di capacità di intervento nelle situazioni sociali reali così come prima ci veniva anche rappresentato dalla Soriano la necessità di riattivare anche una volontà disponibilità alla militanza alla lotta che va dal mutualismo all'avvertenza territoriale alle questioni ambientali ai conflitti sui blocchi di lavoro è qualcosa che noi già abbiamo attraversato in qualche misura alle ultime elezioni diciamo alle scorse elezioni politiche ed è stato un momento in cui noi abbiamo avuto scelto dopo appunto il lancio dei compagni dell'OPG la volontà e la scelta netta di partecipare a quell'esperienza ne siamo stati insieme ad altri uno dei soggetti costituenti e abbiamo come dire spinto affinché quell'esperienza non fosse semplicemente un passaggio elettorale ma che potesse essere diciamo un momento di ripostruzione di uno spazio ampio, largo che non determina semplicemente la soggettivazione politica del giorno dopo l'elezione perché sarebbe come dire una cosa poco realistica e anche poco utile in quel momento ma in realtà dobbiamo ricordarci come noi a un certo punto di fronte a scelte in quel dipartito che invece di porre al centro queste necessità si sono ripiegate su un'attività che era diciamo autocentrata noi abbiamo fatto una scelta come dire di uscita abbandonando ogni polemica sulle questioni diciamo formali che si sono trascinate per anni perché per noi la politica e la dialettica la battaglia politica è quello diciamo il campo sul quale voler agire su questo abbiamo pronunciato da un lato le scelte che sono state fatte perché hanno determinato un'ulteriore rottura sinistra hanno rideterminato un oscuramento dei soggetti sociali di riferimento ma al tempo stesso abbiamo da sempre praticato la necessità della costruzione di fronte ampio e della costruzione sociale e politica che è necessario in questo paese ne abbiamo fatto diciamo l'asse cardine di due congressi della nostra organizzazione lo vogliamo praticare nel prossimo autunno sperando che la questione diciamo la mobilizzazione che si vuole lanciare in autunno accumuli le risorse necessarie e su questo Chichino diceva anche prima da Fuliano c'è un passaggio che determina in qualche misura un'accelerazione nelle prossime elezioni del 2023 beh io penso che invece questi due elementi devono avere una connessione importante cioè qualunque ipotesi di carattere elettorale può avere senso solo se la convergenza e l'insorgenza che noi proviamo a lanciare ha delle capacità di azione, esiste nella realtà sociale ha una sua rappresentazione fisica perché altrimenti è semplicemente la costruzione di un carattere elettorale e beh su questo noi vogliamo quindi stimolare anche questo dibattito che è aperto a sinistra sul centrare il dibattito proprio su una costruzione che nasca dalle mobilizzazioni sociali di carattere ambientale, del lavoro, della questione femminista è su questo delle questioni diciamo anche sul razzismo che esiste in questo paese su tutto quello che sta accadendo potrebbero essere molti temi sui quali agire che ci diciamo ci accomunano anche e invece venire meno a una discussione che è in qualche misura più politicista dove spesso l'elemento centrale del dibattito oggi è la leadership di questa esperienza beh noi crediamo che il dibattito centrale di questa ipotesi di lavoro non debba essere se tematicistris o meno deve essere la leadership di alla prossima candidatura ma se stiamo in grado di costruire quella mobilizzazione che dà senso a questa esperienza che va oltre le leadership ed è su questo che vogliamo lavorare ed è anche il modo in cui poi però anche la rappresentanza delle leadership hanno un senso nella politica e nella politica attuale molto importante e su questo ieri Cicciauletta mi ha diciamo stimolato un pezzo di memoria che ti ricordo anche se il breve termine non storico quando diceva io faccio il consigliere comunale al servizio dei movimenti e denuncio la nascita della base coltale sono strumento delle mobilizzazioni contro la guerra beh al tempo stesso però in tutta franchezza lo devo ricordare come a Napoli sull'annunzatella dei magistri quindi si faceva un rapporto con il ministro della difesa per allargare la scuola militare della non c'è della stessa per l'esercito europeo per cui voglio dire anche questo è necessario ma questo elemento però si supera in una modalità diciamo fondamentale non discutiamo delle leadership discutiamo di come si costruisce la mobilizzazione di come si costruisce sì e prendiamo come dire in mano la staccetta che a Firenze la GKM ci ha lanciato perché le elezioni e il passaggio della rappresentanza hanno un senso solo se costruiamo un movimento sociale sui lavori, sui lavori, sui lavori ambientali sui lavori, sui lavori, sui lavori e sui lavori grazie applausi 8 più di 40 ancora Simona Suniano a tenere il privato a chiese è stato molto in gamba anche animando Francesca Basatti anche a poco immagino si stia preparando alle elezioni politiche si stia interrogando in qualche modo che cosa sta succedendo tanto come è stata vissuta la precedente tornata politica di emozioni politiche e come state affrontando l'arrivo del 2023 insomma adesso non si vede più il partito appena nato si vede un partito che ha quasi una storia insomma Sì intanto siamo molto felici di essere uno dei unico partito creato di questi appunto esperimenti che sono stati fatti negli anni appunto da finestra variamente definata comunque alternativa che esiste anche alla tornata successiva con lo stesso nome e lo stesso timbolo che appunto quando si partì ci dicevano tutti di quanti c'eravamo dentro che ci saremmo sciolti dopo tre mesi e invece ad oggi abbiamo quindi 50 semplai territoriali comunque attive che appunto moltissimo prima hanno discusso un documento politico con delle tese anche comunque appunto con un'analisi che ha coinvolto i territori sia sul rapporto che dobbiamo avere con i sindacati in particolare con i confederati e sulla questione anche europea quindi anche temi abbastanza complessi e questa è proprio la partecipazione di tutte e 50 assemblee territoriali che in un'assemblea poi nazionale che si è tenuta il 28 maggio a Roma hanno preso parola a quasi tutte quindi comunque anche uno sforzo di partecipazione e di riferirci veramente alla base come era quello il nostro obiettivo di partenza a distanza di cinque anni possiamo dire che comunque ancora c'è ancora ci stiamo e come dicevamo anche Armando prima l'elezione in sé il campo appunto della rappresentanza non è mai stato il fine è sempre stato il mezzo nel senso che la chiamata dell'Electo PG da Napoli parte perché nessuno ci rappresenta quando chiamoci noi cioè chi fa realmente conflitto sociale chi gestisce uno spazio sociale chi è nelle lotte nelle vertente ha bisogno di un terminale delle istituzioni ma non perché questa è la sua vocazione e la sua finalità ultima ma perché si deve servire come strumento per poter poi attuare e praticare dal punto di vista politico quello che è il conflitto sociale che viviamo cioè una volta avevamo parlamentari amici al di là del fatto di dover avere il duo che nasce appunto dalla tua rosta e che comunque ti davano il loro contributo o erano presenti nel momento in cui c'era bisogno della politica non ci sono più sono distanti e appunto sono poi anche assolutamente a questo punto tutti d'accordo tutti insieme in questi governi di larga e intesa che si seguono uno dietro l'altro e che sono rappresentanti di determinate classi sociali ma non è vero che i classi sociali non ci sono più ci sono e non è che non c'è non c'è finita sono lì a rappresentare una classe sociale che non è quella che vogliamo e che rappresentiamo noi che esiste e che ha maggioranza nel Paese ha maggioranza sociale quindi quando poi noi andiamo a trattare i temi concreti e andiamo a parlare di cosa dobbiamo fare e è lì che poi si ha uno spartiacque quindi anche la rappresentante per esempio noi puntiamo tantissimo sulle rappresentanze nei comuni perché comunque il primo livello in cui appunto si riesce a incidere per ricreare quel legame con la base che si è aspettato e che necessariamente si deve essere costruito è la dimensione più piccola l'orata è finita adesso ma torniamo a camaiore a camaiore e mi parto da lì noi eravamo come camaiore popolare l'unica proposta al di là della candidatura di centro-destra e di centro-sinistra la candidatura di centro-destra era una candidata scelta da Fratelli d'Italia perché la destra è a camaiore ha dedicato fino all'ultimo secondo su chi candidare non si mettevano d'accordo tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e la Lega hanno fatto un sondaggio con gli elettori per capire chi dovevano candidare erano poi questa candidata di Fratelli d'Italia e Forza Italia e la Lega non erano per nulla contenti quindi Italia viva anche presentarsi come turista in appoggio al centro-sinistra ha presentato una civica in cui si sono riempilati quelli di quarta età che erano in polemica con la candidata di centro-destra questa lista che erano parecchi voti e di fatto quelli che sono i consiglieri d'opposizione che in comune comunque i 30.000 studenti non sono tantissimi uno è la strategia con la Lega perché poi l'indottrino turco al centro-sinistra e non so se è uscita in questi giorni in ufficialità o se deve uscire ma insomma è molto probabile che il consigliere della Lega parti in maggioranza con il Partito Democratico quindi quando si viene a dire che è voto utile, siamo raggi alle destre cioè appunto fino a che poi non si arriva ai votaggi perché c'è tanto il nostro sindaco di Narese, Giorgio De Gingaro eletto con il Partito Democratico e quindi rappresentante del centro-sinistra che è di luce prima da Lucca ha poi dato indicazione e dichiarato che quando ha votato avrebbe votato il candidato di destra quindi tutta questa narrazione è abbondata e la smonti appunto partendo dalle lotte, partendo dai temi quello che noi dovremmo fare anche in questa giornata del centro-sinistra è quello di avere appunto un controllo popolare nelle istituzioni perché siamo arrivati appunto che anche reperire soltanto le informazioni che vediamo in Toscana adesso che non abbiamo più nessuno a fare una costituzione di sinistra anche solo sapere che cosa fanno poi di affrontare comunque la resistenza e la zera a abomini vari diventa complesso e quindi è fondamentale e questo lo si può fare solo se eleggi cioè non è per dire appunto se hai il tuo obiettivo primario è parte di un lavoro di un lavoro che ha sotto la punta dell'aider tutta la gran parte dell'ambitanza che però ne scelta anche di quel terminale perché sennò non arriva mai a incidere e a cambiare in qualche modo le cose l'abbiamo visto con la formazione della componente Manifesta e con il senatore di potere al popolo Mantero al Senato cioè sono pochissimi perché un senatore però all'inizio anche prima che si riuscisse a costituire la componente di Manifesta con un senatore siamo riusciti a portare le interrogazioni parlamentari su tutte le questioni che altrimenti sono state discusse e da lì poi avere invece numeri diversi si può realmente poi andare a decidere quindi tornando al tema che cosa è secondo noi importante? è importante esserci è importante esserci e avere poi anche dei numeri per eleggere perché la testimonianza non interessa tanto a nessuno ed è importante esserci e leggere su dei temi chiari, fondamentali che sono quelli su cui c'è già il lavoro progresso che è portato avanti nei territori e che dovranno essere poi quelli che saranno la fase del lavoro anche programmatico e di costruzione di questo in rete immaginale di cui si parlava anche prima che dovrà poi essere anche di guida, di ispirazione anche per i ragazzi giovani, i ragazzi giovani che si approcciano alla politica cioè dobbiamo riportare secondo noi un po' di chiarezza e il tema della pace si parlava prima la questione dell'opposizione ai governi ondari a partire dalla guerra, dall'antimilitarismo né con Putin né con la NATO è chiaro che è un'invasione è chiaro che è da condannare un popolo come quell'Ucraino che viene bombardato e non si può no essere ambigui sulla condanna netta di un'invasione in un altro paese è anche chiaro che non si può individuare la NATO come fonte di problema la NATO come fonte di pericolo, di causa di guerra antiche di risoluzione e quindi anche tutta la questione poi dell'antimilitarismo delle spese militari, della contrarietà all'impio di armi sono tutti temi che devono essere al centro cioè è per quello che noi dobbiamo avere come rappresentanza e questi sono temi su cui la società civile è in maggioranza le persone hanno idee chiare su questo e non hanno rappresentanza quindi pace e poi si diceva prima chiaramente la questione enorme di lavoro e ambiente che appunto attraverso anche proprio la ricostruzione dell'immaginario socialista deve tornare a essere centrale e la questione di genere perché anche quella viene troppo e premedicata allora grazie Maurizio che cosa sta per succedere? noi sappiamo che il 9 luglio succederà qualcosa ci saranno degli annunci potrete iniziare un percorso insomma cerchiamo di capirne di più 9 luglio praticamente è domani ma guarda si sente? si sente bene? aspetta che ti avvicino è forte e chiaro anche ciò ecco qui posso andare? si vai vai non so questa è in precisione forse è un vento a me non... non riesco ok basta mettere vedete? ok ok allora per rispondere per il compagno che chino non è un segreto di stato che noi lavoriamo insieme abbiamo con De Magistris con Manifesta con PAP ci confrontiamo insomma c'è un lavoro comune che abbiamo avviato e che è nato a partire dalla nascita della componente oltre che per il fatto che frequentiamo diciamo gli stessi posti anche la nostra collaborazione con le compagnie di Manifesta è nata per una sintonia tra le cose da fare approfitto per fare un annuncio perché non mi ricordo se lo ha detto già Simona ma nella giornata di ieri sia io che Giuliano Granato e Marta Collò abbiamo scritto alla Presidente del Senato nel Senato per comunicare che anche insomma che ci riconosciamo come rifondazione PAP nella dichiarazione che hanno invitato i compagni Mantero e Paola Nunez al Senato quindi noi discutiamo da tempo su come creare una cosa che insomma ho notato che sia noi di fondazione del Papa abbiamo usato la stessa espressione coalizione popolare ma non che pensiamo che questo debba essere il nome dell'acqua come avviare un processo per creare uno schieramento di alternativa e un progetto di alternativa nel nostro paese che ovviamente non abbia solo lo scopo elettorale ma che abbia anche lo scopo elettorale ovviamente fin dall'inizio ci siamo detti che questo processo non può essere assommatoria solo nostra anche perché noi non faremo niente senza anche la presenza di sinistra anticaminalista che mancherebbero di altre soggettività a cui insomma con cui c'è una convergenza di lunga data e quindi il nome luglio semplicemente diremo che abbiamo questa volontà pubblicamente quindi sarà un'assemblea in cui sia mio percorso non si chiude è tutto da discutersi è tutto da costruirsi è ovvio che deve essere partecipato che deve essere aperto anche a chi finora non si è riunito con noi per discutere mi pare giusto che sia così e per questo non lo convocheremo come organizzazioni proprio per creare un campo di discussione di lavoro comune certo indicando alcune direzioni di marcio ma che sono quelle che mi sembra condivise da tutti i nomi per quanto riguarda un tema uscito prima Dario ha detto dobbiamo uscire dalla lista della spesa io sono completamente d'accordo però ovviamente abbiamo bisogno di ritrovarci sul programma che parli al paese cioè che offra una visione alternativa del nostro paese di cosa faremo noi perché di solito ed è un dramma italiano almeno dal 2008 tutto il dibattito pubblico è polarizzato tra alternative per noi orribili cioè detto per di noi noi facciamo le manifestazioni per la pace contro la guerra contro l'invio delle armi all'Ucraina come abbiamo detto su questo so che noi di sinistra di teoriaista penso alla stessa maniera contro Putin e contro la Nato poi in termini c'è Orsini e la polarizzazione tra Orsini o magari per qualcuno che pure Putiniamo sul serio Orsini per o male non manco capito come la pensa però ricordo come autore di un libro su Gramsci per cui mi interette va bene mi autocensuro allora nel Beniamino di Sapiano quando descriverà Antonio Gramsci come va bene facciamo vedere il mostro totalitario e e questo è accaduto sui vaccini l'Italia si è polarizzata tra un governo al servizio delle multinazionali farmaceutiche della sanità privata che però incarnava la scienza e che dichiarava che era più facile essere colpiti dall'austeroide che dal Covid tesi che devo dire se l'avessi proposto a chi è stato del reparto con me dell'ospedale credo non avrebbe fatto molto consenso pur rispettabile delle opinioni però sostanzialmente non ha spotraghi la nostra critica della proprietà intellettuale della Cine come quello dei multinazionali dello smantellamento della salita privata della mancata zona rossa per non infastidire confindustria eccetera era tutto scomparso cioè milioni di persone hanno litigato su due opzioni che non erano le nostre e questo accade quasi sempre sul brutto quindi abbiamo noi un'esigenza io credo di costruire una proposta che dia forza alle lotte e dia anche un po' di forza anche dentro le istituzioni che sia utilizzata come l'ha utilizzata se ci hanno letta credo che sia utile ma è un problema che è stato posto anche se non mi avete chiesto a me e che è il ruolo di De Magistris se io questo voglio essere chiaro ovviamente io non ho mai pensato che De Magistris sia Lenin c'è Grau e neanche uno di noi probabilmente è passato più tempo sui testi di diritto sui sacri testi marxisti sicuramente ne ha passato meno di me e della totalità della platea legionita ne sono certi e probabilmente non è al 100% un militante marxista e comunismo ma sicuro però sicuramente è uno che ha fatto una scelta di campo molto netta di un partito democratico e e ha portato avanti fino alle estreme conseguenze in questo anno in questi anni con contraddizioni ovvio ma nel processo in Venezuela non c'erano contraddizioni di altro tipo in tantissimi processi in giro per il mondo anche in Francia la figura la figura non è contraddittoria sicuramente però io credo che fondamentalmente noi non dobbiamo creare il partito con la coalizione dell'angistris io credo che dobbiamo utilizzare la disponibilità dell'angistris che è rara in questi tempi perché chiunque abbia un po' quindi non rapidamente passa dall'altro lato della barricata al servizio della nostra area ma non della nostra area ma di quella Italia che si rivela e non accetta il dragismo e tutto ciò che non accettevano tutti insieme io credo che da questo punto di vista certo con tante contraddizioni questo l'abbia fatto a Napoli e anche in Calabria non credo che sulla stessa scala si possa fare a livello nazionale ma credo che possa essere un contenuto utile a patto che ci sia anche il resto che non ci sia solo dei magistris però lo dico siccome siamo compagni e compagni in una vita di lotte alle spalle ognuno con una divata diversa a seconda della lagre ma non complessi di inferiorità non temo la sostruzione penso che ognuno può portare nel progetto qualcosa di positivo certamente il profilo della cosa che dobbiamo andare a costruire della coalizione sociale deve essere ecosocialista deve essere femminista anzi questo è un particolare che tengo molto a sottolineare perché con sinistra antinapitalista ha condivido corticali per il rosso brunismo in tutte le sue varianti dal filoputinismo al creare la classifica tra lotte sociali e lotte per i diritti civili che è la cosa più reazionaria del pianeta io ieri ho fatto un tweet segnalando a tanti liberali anche della sinistra radicale che il primo Stato ad aver legalizzato l'aborto è stata la Repubblica dei Soviet di Lenin e Trotsky e fu anche il primo Stato ad abolire le leggi contro gli omosessuali quindi è ovvio che noi che furono in altri due casi la marge indietro dei Buccosali proprio perché abbiamo questa storia e questo DNA non ha nessun timore di costruire un processo popolare con chi si ritrova su una piattaforma su una pratica e la pratica non può che essere anche in questo processo di convergenza come descritto da Davio dico di più su questo punto l'optimum sarebbe che i movimenti sociali direttamente insieme alle organizzazioni politiche quelle rimaste per bene o male sono tutte internissime insomma noi siamo militanti tutti attivisti oltre che diciamo iscritti a una formazione politica più o meno partitica ma che fosse una diretta espressione però questo probabilmente non gioverebbe allo sviluppo della capacità autonoma dei movimenti capisco che ci sia da questo punto di vista una ritoria una priorità del carriero sociale noi dobbiamo fare in modo che la convergenza sulle lotte sociali sulla costruzione del movimento e la coalizione popolare siano processi che camminano di pari passo che non si ostacolino anzi io spero e penso che la coalizione popolare in questo è utile se serve a favorire anche la convergenza e anche la crescita del movimento e la fine dell'influsso io credo che abbiamo bisogno di reagire su entrambi i piani e dobbiamo farlo con grande umilità perché nessuno ha le ricette per risolvere tutto ognuno è portatore ognuna è portatore di esperienze da cui imparare da punti di vista da punti di vita e se ci riusciamo io credo che magari possiamo rompere questa maledizione della sconfitta che ci perseguita io sono molto anche un faismo rivoluzionario perché quando si in minoranza bisogna avere coscienza dei rapporti di forza però penso anche che le sconfitte ripetute inaridiscono indepoliscono rinsecchiscono fanno passare la voglia anche di lottare quindi qualsiasi vittoria sul piano delle lotte sociali o anche di una presentazione elettorale in ogni giorno dopo più gente più persone più proletari più cittadine cittadine a riscoprire l'azione collettiva su tutti i piani quindi cerchiamo di lavorarci con lo spirito che mi pare su cui oggi mi pare registrato una forte convergenza quindi ovviamente il 9 è bene ed è ovvio un appuntamento che non riguarda solo noi ma è ovviamente un appuntamento che riguarda anche i compagni di sinistra anticapitalista e tutte le compagni e i compagni che in Italia in questi anni hanno condiviso percorsi di notte e di alternativa grazie 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 allora concludiamo questo questo giro di tavola rotonda grazie secondo me concludiamo questo giro di tavola rotonda con Dario Sorbetti non tanto perché gli affidiamo le conclusioni ma quanto perché noi dovremmo capire da lui quali sono stati i rapporti tra la politica tra i compagni che sono collegati alla GKPN insieme a voi e il collettivo che restano di lavoratori e lavoratrici più volte in questi mesi abbiamo letto di posta abbiamo sentito l'assemblea e voi di GKPN avete sempre come dire proposto una versione inetica del rapporto tra lotte pertenze e loro ricadute in politica quindi non vogliamo tanto una ricetta quando vorremmo come dire degli elementi di riflessione da questo punto di vista che questo hanno vissuto fianco a fianco con altri militanti ma mai nelle forme come dire tradizionali che è stata citata spesso in cui gli interventi per esempio quella del coordinamento delle pertenze di cui abbiamo parlato questa mattina no non sono assolutamente delle repliche anche perché in parte almeno come politico di fabbrica facciamo chiaramente fatica a macerarci in questo in questo dibattito il 9 luglio per noi anche sarà un anniversario un anno di assiglia permanente perché la chiusura del GKPN a venire il 9 luglio tra l'altro che passasse da Firenze saremmo lì dalle 18 con una sorta di concertoni che non è una festa ma è un urlo liberatorio perché da festeggiare non c'è molto ma da urlare che siamo stati ancora in piedi per un anno non sappiamo in un momento che hanno fatto che su quei cancelli hanno preso una musata molto molto forte come si dice a Firenze e questo sì ce lo concederemo quando appunto il 9 luglio abbiamo passato i cancelli se in quei momenti ci passano i cancelli ci fossimo voltati ci fossimo guardati ci fossimo guardati in faccia e avessimo detto che l'unica speranza che avevamo da raccontare migliaia di persone in piazza che l'avremmo fatto e che avremmo fatto una legge antideorganizzazione che l'avremmo portata in Parlamento che avremmo stretto un redame con farli sull'ufficio che tendenzialmente eravamo destinati a perdere perché eravamo conto tutti i rapporti di forza quelle stesse persone che avevano passato quel cancello non solo avrebbero ritenuto questo non corretto impossibile realizzare ma forse ma forse eravano anche girato le spalle e sarebbero uscite dal cancello abbandonando immediatamente la lotta invece il passare il passare quel cancello determina un rapporto di forza che tu in quel caso crei con il tuo corpo un atto radicale e radicale nei fatti e sulla base di quel rapporto di forza si investe un meccanismo dialettico per cui le idee che il giorno prima nemmeno si sembravano possibili gli sembrano poi possibili probabili e addirittura auspicabili le uniche necessarie tant'è che poi quelle stesse persone che sfondano quel cancello per il proprio posto di lavoro mi sono sentito dire in questi mesi frasi del tipo per me sia importante il posto di lavoro ma è ancora più importante che noi con le leggi antiderorganizzazioni apriamo un precedente per tutto il paese o mi sono sentito addirittura dire pensate se qualcuno l'avessi detto quella mattina mentre sfondavamo il cancello il licenziamento è una delle cose più belle che mi è capitata nella vita perché mi ha tolto un posto di lavoro ma mi ha aperto un mondo mi ha dato un'esperienza di cui io dovevo ridurre la morte nazionale perché mi ha permesso di prendere il destino delle mie mani faccio questo esempio per dire che esiste uno sviluppo dialettico delle idee e se tu vuoi percepire certe idee certi meccanismi prima di questi meccanismi abbiano effettivamente un elemento di accumulazione tu ti fatti danni da via a questa accumulazione questo mi ha un'idea potenzialmente corretta di qualcosa che è scorretto in quel momento non lo si verrà e io credo che il dibattito sulla questione elettorale rischi di essere questo rischi di essere questo noi non abbiamo un'epertradizione umana politica storica nessun pregiudizio anti elettorale antipartito antipolitico antipolitico sarebbe da parte nostra ipocrita e subito perché la nostra storia è tutta e dentro il gkn non c'è mai stata credo in una lotta sociale operaria una tale agibilità politica per le organizzazioni partitiche e politiche la stessa assemblea del 15 maggio forse non vuoi se ne sono resi conto perché so che chiacchiericcio dentro la assemblea del 15 maggio e se il gkn avrebbe lanciato il soggetto politico la candidatura eccetera in realtà è successo qualcosa di ancora più incredibile che organizzazioni partitiche anche radicali anche estreme anche molto piccole hanno parlato nella stessa assemblea a fianco del comitato contro la geotermia del montagnato in maniera assolutamente legittima o che come dire soggetti che si occupano di diritti civili o vertenze singole e vertenze sindacali sono state dentro la stessa assemblea con organizzazioni politiche e partitiche è successo qualcosa di più non abbiamo lanciato il soggetto politico abbiamo aumentato la societività politica reale dei soggetti sociali vivi che è quello di cui tutti e tutti noi abbiamo bisogno perché un domani possa anche esistere un progetto elettorale che non sia ultraminoritario che si misuri tra l'1,5 e il 2 per cento della propria esistenza dopodiché questo ragionamento io lo faccio stimolato dal dibattito perché noi oggi come collettivo di fabbrica siamo ossessionati in maniera concursiva più che sulla primavera sull'ottuno ed è vero che non ci dobbiamo dire che l'ottuno sarà caldo in maniera come dire facilona o aspicabile dobbiamo dirci qualcosa di più dobbiamo dirci qualcosa di più che tutti noi siamo chiamati a capire fino a quando possiamo istendere gli spirali di cambiamento di fermento che ci sono in questo momento nella società e che sono però assolutamente ancora minoritari perché anche la manifestazione di coltano che tutta giustamente lo citiamo comunque con la manifestazione che si conta a decine di migliaia non a centinaia di migliaia che fa per una serie di soggetti e di associazioni che ancora non hanno una maggioranza un attivismo una capacità così come le due manifestazioni che GKN ha convocato continuano ad essere manifestazioni di attivismo per la maggioranza noi siamo consapevoli noi ci siamo chiesti ossessivamente se questi spirali ci stavano dicendo che qualcosa nel paese sta accadendo se la facilità improvvisa che noi abbiamo parlare con gli stati generali nel collegamento tra questione sociale e diritti civili invalidità eccetera se la facilità con cui siamo riusciti a fare una dichiarazione congiunta che non è un movimento originariamente classista dove facciamo mettere Nero su bianco e mettiamo Nero su bianco senza discussione nel senso che è stato veramente naturale che ci vuole la riduzione della riparità di salario che bisogna scardinare le strutture istituzionali della società per un tipo di montanzia partecipativa di tipo diverso rispetto a quella che esiste attualmente se questo non sia luce che qualcosa sta accadendo e se noi non continuiamo questo qualcosa che sta accadendo questo qualcosa domani non avrà nemmeno la possibilità di chiedersi se vuole partire il terreno elettorale io inventirei completamente l'ordine di fattore perché se questa mobilitazione questo fermento esiste nella società e lo coltiviamo e passa dall'ordino attraverso una serie di passaggi fondamentali che non siano né prematuri né necessariamente reti allora ho domanda la discussione se questo qualcosa può e deve anche praticare il terreno elettorale forse non la faccio semplicemente tra noi che siamo qua presenti ma la faccio con soggetti che oggi non si pongono non solo il terreno elettorale ma nemmeno il terreno politico perché appunto non sono mai stato anti-elettoralista ma la scissione che c'è stata in questo paese tra militanza sociale sindacale politica partiti elettorali non è stata mica soltanto il risultato di qualche teorizzazione che pure c'è stata c'è chi ha teorizzato che si deve essere liberi è stato il risultato di una serie di arrettamenti di rapporti di forza a un certo punto in GKM giustamente in tanti citerà per fortuna avete resistito bene anche sulle spalle condanniamo ma come si può quanto tempo c'è avuto la carica negativa di raccordo il collettivo di fabbrica questa casa matta che poi apre processi più ampi e quel tempo se pochi attivisti e pochi militanti a un certo punto deve decidere dove investirlo e se contemporaneamente il processo politico-elettorale che altri soggetti si danno non si interseca realmente con questo tuo tentativo di costruzione e nel nostro caso può essere quella dei collettivi di fabbrica e nel nostro caso può essere un comitato l'incenditore eccetera a un certo punto devi scegliere se stare sul terreno sociale sindacale o se stare sull'altro terreno e quindi la divisione che si crede è nei fatti io non ho una visione anti-elettoristica ma non ho nemmeno una visione gioiosa delle lezioni ma pure nemmeno dei congressi come il congresso del CGL che ci apprezziamo a fare perché tutto ciò che è voto tutto ciò che è come dire fotografia elettorale dell'esistenza è una fotografia elettorale statica mentre i lotti sono processi dinamici dove improvvisamente 300 lavoratori che resistono da un'anima super permanente sono uguali a 300 voti in qualsiasi come dire gruppo di potere che ha un po' di amici e magari non so un medico della muta che fa un po' di di pubblicità o per candidatura perché di questo non ne stiamo parlando perché non vuol dire che dobbiamo evitare i piani elettorali o congressuali vuol dire che dobbiamo metterci consapevoli del fatto che se noi già abbiamo difficoltà di forza sul terreno sociale questa difficoltà aumenta esponenzialmente sul terreno elettorale e congressuale eccetera quindi non è un momento da attendere alternativamente alla lotta o all'opposizione sociale è un momento in cui noi dobbiamo essere consapevoli che intanto più abbiamo scatenato l'opposizione sociale del paese tanto più leggeremo magari sull'altro terreno sapendo che comunque sarà un terreno ancora estremamente complicato per la sua natura quindi se la domanda è in questo momento se nel paese esistesse una coalizione popolare con numeri importanti discreti con la possibilità di un gruppo parlamentare sarebbe un po' assieme avanti non posso rispondere sì ma ci manterebbe anche con tutte le sue contraddizioni perché almeno potrebbero un dibattito se la domanda è se questo è il dibattito che almeno lo faremo prossimamente no noi siamo concentrati su un tanto tempo ci saranno i campeggi in base anche la discussione interna delle organizzioni sindacali che stanno discutendo se e quando invocare scioperi generali come fare questi scioperi generali e attenzione perché se anticipiamo troppo invece con l'altra discussione anticipata perché io al momento legittimamente la guardo estremamente penso che sia legittima e che vada a quale porta avanti la porti il rischio è quello di tagliare un processo di accumulazione di forze che si sta dando nel paese perché se poi selezioniamo i nostri quali dirigenti politici il nostro attivismo sui momenti congressuali elettorali eccetera non possiamo poi lamentarci se tiriamo su organizzazioni che sono strutturate su quei momenti mentre altre nel frattempo in maniera diversa piuttosto legittima fanno magari comitati ambientalisti non ceneritore o altri tipi di lotte che ci ritroviamo sempre ai mondi paralleli e distaccati quindi da questo punto di vista concentriamoci sulla possibilità del tenetemi liberi in ottuno e del tipo di processo che dobbiamo dare e faccio fatica oggi a predeterminare che cosa avverrà di questo processo anche perché è veramente determinato i meccanismi che si stanno dando sono violenti di una violenza estrema noi parliamo purtroppo della facilità della guerra della pandemia la catena del prodigionamento e la catena del valore del caratterismo è saltata non è necessitato un problema di guerra sta saltando tutto il resciore invece al ritorno della produzione e la declobalizzazione non sarà un modo più lungo cioè la declobalizzazione viene meno da destra non dal nostro punto di vista e quindi il ritorno al nazionalismo il ritorno al forno di corporativismo in certi tipi di industrie ci sarà un aumento inevitabile della repressione e la guerra in Ucraina non finisce domani e il traterraneo in equilibrio militare se noi mentre portiamo avanti questo progetto non costruiamo case matte e una nuova classe dirigente i movimenti 5 stelle che improvvisamente scippano il voto del milione quando nasce il paese ci mettono due secondi a ritirare su ci mettono due secondi a ritirare su che noi non teniamo botta non reggiamo quindi concentriamoci su un processo di accumulazione di forze e deve continuare e stiamo attenti a non anticipare troppo dei clienti che poi tagliano questo processo di accumulazione per finire corrisponde a domande che ti ho risposto quando lui ci ha chiesto un'intervista ma voi stracciate il coordinamento mi ha detto più che discutere che tipo di coordinamento darsi discutiamo che cosa vogliamo coordinare se i gruppi di convergenza si stanno dando sul territorio o no e quanti sono i punti di insorgenza quanti sono i punti di forza da cui noi dobbiamo ripartire abbiamo citato alcuni coltano reglassificatore la GKM e per me o sono anche i compagni del K ad esempio e un domani altre manifestazioni anti-militariste facciamo questa mappatura partiamo da questi rapporti di forza costruiamoli attorno alla convergenza costruiamoli attorno da un uno nuovo immaginario colettivo e poi questo legittimamente qualcuno domani possa anche rispondere un progetto elettorale ad oggi non mi riguarda nulla lo demonizzo e mai lo demonizzerò perché non è questa mai stata la mia posizione ma stiamo sul punto secondo me questo è almeno la riflessione che lo stiamo facendo insomma è stata una discusione credo piena di spunti spunti che poi ciascuno di noi volentivamente continuerà a a farne base per le riflessioni io vorrei ringraziare che sono stato contentissimo di aver partecipato a un dibattito così articolato che non credo abbia bisogno di confusione tanto più non vorrei asserire a tirare delle conclusioni noi domani abbiamo un altro puntamento importante per questo convegno questa sera ci sono anche due comuni quella del gruppo comunicazione e quella dei responsabili organizzativi dei circoli dopo scena e penso che possiamo più della qui ringraziamo anche chi ci ha seguito a distanza ringraziamo Maurizio che è riuscito a dettagliarsi il tempo per noi durante i lavori del cpn buona serata a tutti grazie 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 grazie